E in proposito alla mozione di censura, ascoltiamo adesso i consiglieri comunali William Giacalone di Forza Italia e Gerlando G. Bilaro del gruppo Uniti per la Città. Alla consiglio comunale di Agrigento è stato approvato, come annunciato ieri del resto, un atto di censura, una mozione di censura nei confronti dell'operato dell'assessore Fontana nell'ambito della gestione delle servizie di raccolta differenziate in città. Il consigliere comunale di Forza Italia, William Giacalone. Ieri il consiglio comunale si è schierato dalla parte della città. Ieri non ha vinto il consiglio comunale, ha vinto la città. Per noi l'assessore Fontana è sfiduciato. Adesso aspettiamo che l'amministrazione Firetto prenda atto della incapacità amministrativa e della incapacità di saper amministrare una città come Agrigento e sia conseguenziale all'atto politico che ieri sera il consiglio comunale ha votato chiedendo le dimissioni dell'assessore Fontana. Il consigliere comunale del gruppo Uniti per la Città, Gerlando G. Bilaro, avete condiviso e firmato lo stesso atto di censura? Non solo abbiamo condiviso e firmato, ma abbiamo rilanciato la proposta che è stata presentata dai colleghi di Forza Italia. L'ena d'ambienze, l'incapacità nel gestire sotto vari aspetti la città di Agrigento, ormai è sotto gli occhi di tutti, si è evidenziata in maniera ancora più rilevante nella vicenda della raccolta differenziata. Posso solo dire che inutile che candidiamo Agrigento come capitale della cultura 2020, perché già Agrigento ha vinto il premio dell'incapacità politica amministrativa, non Agrigento 2020, Agrigento 40-40. Quindi mi auguro che il Sindaco prenda atto di quello che si sta verificando nella città di Agrigento, perché gli Agrigendini meritano di essere amministrati per bene e in maniera migliore rispetto a quello che il Senato oggi si è fatto. E non è un'accusa, il Sindaco prenda atto che gli Agrigendini ormai sono stanchi.